Ok ragazzi, bentornati su Italian Fight Magazine, l'unico canale di MMA che parla italiano. Ragazzi, questa volta sono ottime notizie, perché è raggiunto l'accordo con Fight Network e quindi domani sera riusciremo a vedere la main card con presente Alessio Di Chirico del TUF 27 finale. Direttamente, ragazzi, aprite le orecchie su Fight Network, canale 62 del Digitale Terrestre. Quindi per la prima volta in assoluto in Italia verrà trasmesso un evento in main card UFC completamente gratis. Sentite come suona bene, gratis. Quindi fanculo Sky, nessuno ci riesce a fermare adesso. E in più ragazzi, un'altra notizia super importantissima, ovvero che tutte le main card saranno trasmesse regolarmente in diretta con il commento americano su UFC Fight Pass, l'applicazione dell'UFC. Tutto questo a partire già da domani. Quindi ragazzi, non ci sono scuse, domani sera a partire già dalle 11, connettetevi su Fight Network e godetevi la serata di botte. E mi raccomando, scaricate l'applicazione dell'UFC Fight Pass per poter seguire anche l'evento di sabato. Detto questo ragazzi, io chiudo il video, scusate se non ho fatto un video abbastanza carino, non ci ho messo foto, però era una notizia, ve la dovevo dare il prima possibile. Quindi ho preferito non montare il video. Detto questo ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo video. Voi intanto commentate se volete che parli di qualche argomento in particolare. E mi raccomando, mettete mi piace, iscrivetevi e soprattutto picciate la campanellina per ricevere le notifiche. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti, a presto. Grazie.